Da diversi giorni sono scattati controlli contro il fenomeno del lavoro nero anche nell'entroterra imperiese, in particolare nelle campagne in occasione della becchiatura delle olive. Le verifiche vengono attuate da funzionari dell'ispettorato del lavoro accompagnati da agenti del corpo forestale. Se da un lato è fuori discussione che chi gestisce aziende agricole debba rispettare le regole come tutti gli altri, è anche vero che i controlli hanno suscitato preoccupazione da parte di molti privati che producono olio generalmente per la loro famiglia e che sono soliti avvalersi dell'aiuto di amici e parenti cui viene poi restituito il favore. Il cosiddetto scambio delle giornate è infatti una tradizione consolidata nell'entroterra imperiese dove da sempre esiste un tacito accordo di mutuo sostegno fra chi cura le campagne e non solo. Considerate le grosse difficoltà affrontate ogni giorno da chi ha ancora voglia e coraggio di mantenere vivo questo territorio, c'è solo quindi da auspicare che i doverosi controlli siano fatti applicando il buonsenso che non è previsto in alcun codice ma che dovrebbe essere alla base dell'agire di ognuno a cominciare dai funzionari pubblici.